Che cosa si svolgerà sabato prossimo? A Lucrezia si svolgerà la 31esima decisione del Corri Lucrezia. Quanti partecipanti prevedete? L'anno scorso erano sui 1750-1800, quest'anno se il tempo ci assiste prevediamo di uguagliare quel numero se non addirittura di fare di meglio. Com'è possibile partecipare per quanto riguarda le iscrizioni? Per i gruppi competitivi scadono il 22 aprile alle ore 12, per chi vuol fare la camminata non competitiva scadono quella mattina. Fai la mattina sul posto fino alle ore 9 e mezza. I bambini possono partecipare? Sì, come no, devono partecipare. Abbiamo una coppettina per tutti, i bambini che parteciperanno dal primo all'ultimo, da 0 a 17 anni. Chi parteciperà avrà una coppia in omaggio per tutti, da noi. Un piccolo pensiero anche per gli adulti? Per gli adulti c'è una forma di formaggio per tutti i partecipanti. State lavorando anche ad un libro? Sì, dovrebbe essere già uscito ma siamo un po' in ritardo. Un libro che dovremmo fare che raccoglie i nostri 30 anni di storia del nostro gruppo e che oramai dovrebbe uscire, non dico la data giusta, ma in estate. Io vi aspetto tutte domenica a Lucrezia, in Via della Repubblica, la piazza principale di Lucrezia, per fare insieme a tutti voi una bella giornata di sport e di allegria. Grazie a tutti.